Il macabe, tratto da Satino Fafner, del Aggressor. Ace Pilot, del Lampis, combatte a bordo del Fafner Mark Elv e successivamente del Fafner Mark Stien. È un ragazzo sensibile e ingenuo, dimostra di essere un abile combattente già dai primi scontri con i Vesco, nonostante tentati di superire ad alcuni ordini partiti dalla base. Siete pronti a scoprire cosa si c'è là dietro l'Arcadian Project? Riuscirà il giovane pilota a gestire una situazione difficile? Sì, si vede illuminata. È bello. Dai, sali per la scelta, si scarica da fotocamma. Signore e signore, benvenuti. Oggi vi parleremo dell'Alvis e per spiegarvi tutto come si deve, uno dei nostri piloti si è offerto volontario per una dimostrazione. A parte che mi avete costretto, poi... Fai come ti dico o non piloterai più nulla. Va bene, va bene. Non posso vivere senza il mio Mark. Che cosa hai detto? Nulla. Comunque, noi siamo l'Alvis, ci occupiamo della vostra sicurezza, sterminiamo alieni e blatte e portiamo il cibo d'asporto a casa vostra. Ehi, chi ha inserito queste sciocchezze? Senti un po' pezzo di idiota, rifarlo ovviamente e... Si sono un po' registrato. Forza, facciamo questa dimostrazione. Bene, adesso il nostro pilota ambienterà un festo un dacchio. Cosa? Senti, mi fai lì, sono un po' di solito. Andiamo, Kazuki, sei il protagonista, puoi farlo. Prego. No, 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 no. L'unica cosa che sappiamo sui festù è che circa... Ma cosa stai facendo? Camino! Io preferivo coi come protagonista, ma nessuno mi ascolta. È morto! Signore e signori, ecco a voi come ambientare un festum a mani nude. Un applauso. Forse anche un festum a mani... Sei un indecino di osano, vero? Vai, Kazuki! D'altronde, sono il protagonista della serie. Ahahahah, l'amo! Ahahahah! 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 Ahahahah!